Da Palazzo di Città è partita una richiesta per l'invio di truppe dell'esercito da utilizzare in aggiunta i corpi di polizia già presenti sul territorio e in particolare del corpo di polizia municipale. È stato il vice sindaco Angelo Cambiano a contattare il prefetto di Agrigento, il dottor Nicola Di Omede, attraverso una specifica nota nella quale è stata chiesta l'adozione di misure volte a contrastare efficacemente il fenomeno legato ai furti di rame registrato nel territorio comunale e in particolare nelle zone della Piana, di Monte Pizzuto, dello Stretto, di Sant'Oliva, della Concaginisi e Mollarella con l'aggravante del fatto che alcune zone sono completamente al buio in quanto a distanza di più di un mese l'illuminazione non è stata ancora ripristinata. Trattandosi di un fenomeno non solo licatese c'è da scommettere che anche i primi cittadini dei paesi limitrofi non esiteranno a formulare le stesse richieste. Del resto anche Ravanusa, Campobello di Licata, Riesi, Sommatino devono fare i conti con furti di notevole quantità di materiale elettrico. L'invio di truppe dell'esercito viene di solito acconsentito in territori dove risulta particolarmente complicato gestire l'ordine pubblico e la sicurezza. Appare evidente come le zone periferiche della città ma non solo di Licata siano particolarmente esposte ai raid vandalici di individui alla ricerca di rame e materiale di conduzione elettrica da immettere poi con ogni probabilità nel mercato della ricettazione. Le manomissioni alla linea elettrica hanno arrecato un notevole danno agli operatori agricoli al lavoro nelle zone vandalizzate che sono stati costretti a ricorrere all'acquisto dei gruppi elettrogeni di continuità per poter alimentare i propri mezzi meccanici vista la mancanza della corrente elettrica. Il vice sindaco ha anche chiesto un incontro in prefettura al fine di contrastare efficacemente il fenomeno e concordare ogni utile iniziativa che rappresenti un segno tangibile della presenza dello Stato e di tutte le istituzioni sul territorio.